presentata a milano presso l'auditorio pirelli la seconda edizione del mimo milano monza motor show in programma dal 16 al 19 giugno del prossimo anno a dare via ai lavori un saluto di marco troncatti provera vicepresidente esecutivo ceo di pirelli e grande sostenitore del mimo i saloni tradizionali continueranno a questo modo vivo per stare vicini soprattutto in un momento in cui penso ci sia una grande voglia di ripartenza quindi il desiderio della gente di essere parte di qualche cosa che guarda al futuro con un occhio positivo è fondamentale come dice il nome mimo milano monza motor show si svilupperà tra le città di milano e di monza mantenendo il suo caratteristico format gratuito per il pubblico che potrà ammirare i modelli esposti su pedane tutte uguali passeggiando per le strade del centro della città milanese oltre che nei box e in pista all'autodromo nazionale di monza mimo è il lato glamour dell'automobilismo con la sua esposizione alla premier parade e i test drive con vendita al pubblico giovedì 16 giugno alle 19 in piazza duomo ci sarà la premier parade la presentazione dinamica su red carpet delle anteprime guidate dai manager stessi o da testimonial una sfilata che sarà anche l'occasione per la cinquantina di case automobilistiche presenti per mostrare le novità dei loro brand durante l'edizione del 2022 il focus auto elettriche sarà area test drive e vendita diretta i visitatori potranno acquistare i modelli elettrici e ibridi provati su strada in viabilità ordinaria nel centro di milano una possibilità di incontro efficace per le case auto e per il pubblico che si inserisce nel processo di rinnovamento del parco auto così tanto auspicato dalla politica e dal settore stesso il cuore della passione dinamica sarà a monza sabato 18 e domenica 19 giugno i riflettori si accenderanno su monza sull'autodromo cuore della passione dinamica del mimo un fine settimana caratterizzato da un calendario che oltre all'esposizione delle novità delle case nei 20 box a disposizione prevede eventi con oltre 2.000 tra supercar hypercar e automobili classiche di pregio da notare poi che con la collaborazione con mille miglia nasce il trofeo mimo mille miglia la prova cronometrata sulla pista di formula 1 con la quale si cimenteranno le più oltre 300 supercar iscritte agli eventi dinamici del calendario mimo sentiamo cosa dice andrea levi patron della manifestazione con edizione di milano monza motor show si terrà dal 16 al 19 giugno oggi abbiamo presentato quello che il programma dell'edizione 2022 con la stessa squadra con la quale abbiamo costruito la prima edizione che è stata sicuramente di successo con oltre 50 case automobilistiche quasi 20 anteprime mondiali un nuovo modo di fare motor show all'aperto gratuito per il pubblico che avvicina quindi giovani avvicina le famiglie con il format che prevede un'esposizione statica nel centro di milano soprattutto grande focus ai modelli elettrici di plug in a tutta quella che insomma è la sostenibilità della mobilità futura e poi la parte dinamica con una premier parale quindi un inizio intorno al duomo di quelle che sono le novità delle case automobilistiche ma guidate dai loro presidenti e poi monza con l'autodromo per la passione per tutto quello che è il coinvolgimento del pubblico con tutto quello che è il coinvolgimento dei grandi collezionisti di tutti diciamo i car lovers quest'anno 2022 diverse novità abbiamo la possibilità per le case automobilistiche di fare anche la vendita dei modelli questa è una grossa novità quindi nell'area test drive oltre a provare gli ultimi modelli le ultime tecnologie le macchine elettriche libri dei plug in proveremo anche diciamo per la prima volta a fare vendita dei modelli perché questo perché vogliamo sostenere comunque il ricambio rinnovo dei modelli di tutte le case automobilistiche e perché quindi diciamo un modo per tutto il settore automobilistico ovviamente di fare quella auspicata ripresa che tutti ci auguriamo e monza poi per tutto quello che riguarda il grande pubblico perché avremo quest'anno grande novità il passaggio della mille miglia sabato 18 giugno quindi i due mondi che si uniscono tutto quello che è classico con le auto più belle devo dire di tutto il mondo prodotte fino al 1955 che partecipano alla mille miglia che entrando dentro l'autodromo di monza nel centenario incontreranno il mimo quindi le case automobilistiche con i loro ultimissimi modelli e quindi per il pubblico l'incontro di questi due mondi il classico il futuro che avrà dentro l'autodromo di monza durante il mimo milano monza motor show la domenica monza le supercar grandi protagoniste con l'evento cars and coffee che ritorna dopo anni e quindi circa 500 supercar che si incontreranno sicuramente con la festa dei motori dal 16 al 19 giugno 2022